Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con Sergio Bagnasco del Direttivo per la Difesa della Costituzione, è giusto come ti presento? Sì, è del Comitato Deferendario. Perfetto, allora intanto è un onore e un piacere averti qua con noi e almeno ci darai qualche ragguaglio, qualche spiegazione in merito perché sentiamo parlare di questo referendum in merito appunto alle elezioni perché poi alla fine della fiera si parla di quello, però non tutti ci spiegano proprio tutto bene, soprattutto nel mainstream si fa un po' fatica a capire di che cosa si parla e quindi legge elettorale, giusto? Esattamente. E nel dettaglio cos'è che c'è che non va diciamo oggi come oggi? Sarebbe più semplice fare la domanda opposta, cioè cosa c'è che va? Perché è facile rispondere, non funziona nulla. Diciamo che allora quando nel 2014 abbiamo letto la sentenza della Corte Costituzionale che riguardava il forcellum, tutti coloro che amano la rappresentanza e la rappresentatività del Parlamento hanno tirato un sospiro di sollievo. Invece quel Parlamento eletto con una legge incostituzionale ha approvato un'altra legge che è quella attuale, il risosatellum, che replica gli stessi vizi di incostituzionalità di quella precedente. In sostanza votare significa scegliere, ma noi in realtà quando votiamo per il Parlamento non possiamo scegliere il candidato preferito e persino il voto a un partito rischia di andare ad un altro partito che noi non abbiamo votato. Quindi siamo al paradosso completo e a quella che la Corte Costituzionale ha chiamato la coartazione della libertà di scelta dell'elettore, perché la democrazia rappresentativa si basa sulla scelta dei propri rappresentanti. Se noi non possiamo sceglierli e a sceglierli sono di fatto i capi partito che decidono loro chi deve siedere in Parlamento, non siamo più in una logica di democrazia rappresentativa. Questo potrebbe essere il cappello introduttivo del perché stiamo facendo questa iniziativa referendaria. Certo. Tra altre cose i nomi delle leggi elettorali sono sempre un po' un disastro, tra virgolette. Hai già detto tu Porcellum il primo, Rosatellum, cioè non si può chiamare legge elettorale. Ma certo che sì e questo è anche un segnale importante, perché la legge elettorale non è una legge qualsiasi, è una legge importantissima perché è la legge che permette la formazione degli organi costituzionali, in questo caso il Parlamento. Allora, il fatto che queste leggi si chiamino con questi dominioni e ormai sono entrati nell'uso giornalistico, nei libri, persino nei saggi dei costituzionalisti, è evidente che è come se stessimo parlando di una burda, di una cosa da amare spettacolo. Insomma, non è una cosa che vada molto bene. Certo. Tra l'altro voglio dire che c'è sempre più gente che sceglie di non andare a votare, cioè il partito del non voto è quello che ha la percentuale più alta, quindi sarà forse anche il problema che magari si fanno dei programmi e poi in realtà non vengono rispettati, oltre a votare per chi? Eh, ma infatti questo è il problema, nel senso che l'italiano medio sa che il programma di ciascun partito non sarà mai realizzato, perché nessun partito governerà da solo, governerà caso mai in coalizione con altri. La coalizione non ha un programma comune, se noi andiamo a vedere le due grandi coalizioni delle ultime elezioni, ogni partito aveva il proprio programma e la legge stessa impone a ogni partito di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo politico. Quindi non può scegliere un programma perché di fatto non c'è un programma da scegliere. Non può scegliere le persone perché le liste sono blindate, quindi non posso scegliere la persona di cui maggiormente mi fido, la persona che mi piace. E allora cosa vado a fare? Perché vado a votare? La tentazione di non andare a votare diventa molto alta e persino la scelta più razionale da un certo punto di vista. Non lo è in realtà non votare perché facciamo il gioco di chi ha occupato le istituzioni. A loro non interessa se andiamo a votare in 100 o in 2. Il loro potere ce l'hanno lo stesso. Io vedo in Parlamento i soliti nomi, i soliti volti, ho 54 anni però già da ragazzino mi ricordo dei nomi che ci sono ancora oggi e mi viene da dire ma questo il Parlamento sembra un po' un'azienda di famiglia, scusa se passo il termine, ma è così. Un referendum potrebbe cambiare le cose e magari vedere anche dei volti nuovi domani. Assolutamente sì, ma paradossalmente noi volti nuovi ne abbiamo visti tanti in questi anni, però ciò non ha modificato la situazione. Perché? Perché i voti nuovi non sono scelti dagli elettori, sono scelti dai capi partito. Quindi sono persone che per ragioni di immagine, di comunicazione, hanno scelto quelle determinate persone. La realtà quindi qual è? Che il Parlamento oggi non rappresenta i cittadini, ma rappresenta gli interessi di bottega, gli interessi di partito. E i parlamentari, non essendo scelti dagli elettori, di fatto non si sentono in qualche modo obbligati a interessarsi degli elettori. Sono più interessati a seguire il loro capopartito, perché dal loro capopartito dipenderà il proprio futuro politico e la propria ricandidatura. Il referendum modifica proprio questo, perché restituisce agli elettori il diritto di scelta del proprio rappresentante. E quindi togliamo alle scriterie di partito un potere importante. E non è un caso che tutti i partiti non stiano parlando di questa cosa, di questa iniziativa referendaria. Certo. Anche perché da una parte c'è qualcuno che vuole un presidente eletto con la maggioranza assoluta dei parlamentari, giusto? E poi invece da qualcun altro invece vorrebbe un'autonomia differenziata, cioè queste Salvini, giusto? Ma quindi il referendum si si muove anche per questo? Beh, il referendum va a incurearsi tra queste due situazioni, perché noi siamo in una situazione paradossale. Da un lato non scegliamo i rappresentanti parlamentari, dall'altro c'è chi vorrebbe che venisse scelto il capo del governo. Il capo, uso questa espressione volutamente, si chiama presidente del consiglio, non si chiama premier, chiamano questa riforma premierato, ma non è un premierato, è l'elezione del capo del governo, a cui viene garantita la maggioranza assoluta del parlamento. Quindi dal momento in cui i parlamentari non li scegliamo noi, ma li scegliono i capi partito, il parlamento è assoggettato al capo del governo. Esecutivo e legislativo coincidono, cosa che non esiste in nessun paese del mondo, liberal democratico, nemmeno nei paesi presidenziali? Perché Macron non ha la certezza di poter controllare l'Assemblea nazionale e neanche Biden ha la certezza di poter controllare il congresso. Quindi se si rafforza un potere bisogna rimettere in equilibrio gli altri. politici. Poi che cosa si fa? Si crea, si trasforma l'Italia in una sorta di federazione di repubblichette. Perché ogni regione dice io di queste materie mi prendo queste cose, tu ti prendi queste altre cose e lo Stato in qualche modo svanisce. Perché certe funzioni non sono più determinate dallo Stato, ma sono le regioni che decidono che cosa prendersi e quindi determinano qual è la funzione dello Stato. Quindi abbiamo un potere centrale forte, dei poteri locali forti e in mezzo il cittadino che non conta nulla. Questa sarebbe la realtà. Allora noi diciamo no, momento, rimettiamo al centro del dibattito politico il tema della rappresentanza e della rappresentatività del Parlamento. Perché se il Parlamento diventa un'assemblea di collaboratori dei capi partito, allora non ha più senso. È come se ogni segretario di partito alzasse la paletta e il suo voto contasse in base ai voti che ha preso. Diventa, come dire, un'assemblea dei soci, non una repubblica parlamentare. Ecco. Potrebbe essere che magari la gente torna a votare volentieri magari con un referendo. Almeno si toglie l'ipocrisia e magari uno dice ok, so che funziona così, almeno è chiaro e trasparente il gioco. In questo momento invece si parla di democrazia rappresentativa, ma non si capisce in cosa consiste questa democrazia rappresentativa. Nel senso che in realtà nessuno può dire questo signore l'ho eletto io, oppure ho contributo io ad eleggerlo. Non si sa il proprio voto che fine fa. Certo. Senti, tra due giorni, il 2 giugno ci sarà la Festa della Repubblica. Con tutto quello che stiamo vivendo e sentendo, guerre, Ucraina, Palestina e tutto quello che è, secondo te cosa ci dovremmo aspettare per il 2 di giugno? Ma intanto sarebbe interessante cominciare a rendersi conto che noi chiamiamo Festa della Repubblica una giornata che dovremmo chiamare Festa della Costituzione. Perché? Perché in quel giorno noi non sapevamo se vinceva la monarchia o la Repubblica, ma sapevamo una cosa, che qualunque fosse stato l'esito di quel referendum sarebbe stata scritta una nuova Costituzione, perché non si ripetesse quello che era avvenuto nel 1922 con l'avvento del fascismo. Quindi una cosa era certa. Comunque andavano le cose, si doveva scrivere una nuova Costituzione. Noi questa cosa ce la siamo un po' dimenticata. Ora, è importante ovviamente che siamo passati dalla monarchia alla Repubblica, ma se non ci ricordiamo che questo passaggio è segnato da una pietra miliare che è la nuova Costituzione, e allora rischiamo che il passaggio diventi un passaggio formale. E allora che semplicemente da un sovrano si passi a un altro tipo di sovrano. E non è più una Repubblica fondata sulla sovranità popolare. Ecco, quindi io cominciai a ricordare a tutti che quel giorno si decise di eleggere un'assemblea con sistema proporzionale che avrebbe scritto una nuova Costituzione, a prescindere dal fatto che prevalesse la Repubblica o la monarchia. Questo è il dato storico importante, una nuova Costituzione. Certo. Hai detto due o tre volte Costituzione, e secondo me è una parola da rispettare in pieno. Ma secondo te oggi con che percentuale viene rispettata la nostra Costituzione? Beh, è difficile parlare di percentuali. Certamente non viene rispettata nelle cose fondamentali. C'è una parte della Costituzione che non è ancora realizzata, penso a tutti i diritti economici e sociali, quando si parla del diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto allo studio, il diritto alla salute, è ancora in gran parte non realizzata, e si stanno esodendo tutti i diritti che riguardano la partecipazione. E' sempre più ridotta all'osso. E non solo per le elezioni parlamentari. Noi a questa tornata voteremo anche in tanti comuni e in tante regioni. E potrete ancora una volta raccontare che in tanti comuni non si sarà raggiunto neanche il 50% dei votanti. E allora qualche domanda uno dovrebbe porsela. Se persino laddove il cittadino sceglie il suo sindaco, la metà non va a votare, è davvero la scelta del capo del governo la soluzione al problema? A me sembra proprio di no. I fatti lo dimostro. Certo. Per quanto riguarda le europee invece, hai detto nel piccolo, in alcuni comuni, alcuni… Beh, le europee purtroppo io credo che anche lì ci sarà una bassa partecipazione al voto e mi dispiace, perché questo è un momento cruciale in cui realmente si gioca il futuro dell'Europa. È un momento importantissimo. Siamo in mezzo a delle questioni rilevanti, no? Tu hai in apertura parlavi delle guerre, quindi è una situazione importantissima. Però anche qui si è fatto ben poco per trasmettere ai cittadini qual è la reale funzione dell'Europa. Se guardiamo bene, molto spesso i cosiddetti leader politici usano l'Europa come una clava, no? Per dire, non è colpa mia, è colpa dell'Europa. L'ha detto l'Europa, l'ha voluto l'Europa. Ecco. E allora l'elettore medio è portato a pensare che l'Europa sia un avversario, sia un nemico, e non sia un'organizzazione che può contribuire a migliorare la nostra vita. In realtà io credo che l'Europa deve cambiare. Quest'Europa ci sono tante cose che non funzionano, ma è una grandissima scommessa. E, diciamo, dopo la nascita degli Stati Uniti d'Europa, forse è la più grande rivoluzione che ci sia stata. Degli Stati Uniti d'America è la più grande rivoluzione che ci sia stata questa associazione degli Stati europei. E bene o male, almeno in casa europea, diciamo, siamo riusciti a non farci più la guerra ogni cinque anni. Ecco, quindi, insomma, qualcosa forse è servita. No, già questo è importante. E credo però che sia poco compreso il ruolo dell'Europa e ci sia anche molto disorientamento. Ci sono cittadini che in queste elezioni voteranno con tre sistemi elettorali diversi. Per il Comune, per la Regione, per le europee. E francamente anche questo contribuisce a disorientare. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché io posso scegliere il consigliere comunale, che preferisco, ma non posso scegliere il candidato parlamentare che preferisco. Qual è la logica di questa cosa? Francamente non si capisce. Certo. Allora, io, Sergio, ti ringrazio per questo collegamento. Spero che sia stato esaustivo per i nostri amici che ci seguono, ma sicuramente sì. ovviamente se capiti a Milano in studio sei ben accetto e benvenuto quando vuoi. Certamente. Ti ringrazio. Un'ultima cosa vorrei aggiungere, se mi consenti. Certo. Il referendum funzionano se i cittadini li fanno propri. Quindi se i cittadini partecipano, si informano, firmano, spiegano anche agli amici e parenti il perché è importante la rappresentanza. e allora il nostro sito è iovoglioscegliere.it, lì trovate tutte le informazioni, non è un caso che ci chiamiamo iovoglioscegliere.it, lì trovate tutte le informazioni e potete seguire tutti i nostri eventi, compresa questa intervista che andrà anche sul nostro sito come documento. Grazie. Certamente, grazie a te e comunque nel banner rimane iovoglioscegliere.it e mi raccomando, tutti noi vogliamo scegliere. Esattamente, grazie. Va bene. Ciao Sergio, grazie, buon lavoro e ci vediamo presto. Grazie. 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 Grazie.